Buonasera, salve, mi chiamo Alessandro e sono un cuoco, mi occupo di pasticceria bioevolutiva crudista, quindi i nostri dolci non utilizzano nessun tipo di carne, nessun tipo di elemento di origine animale e gli ingredienti che utilizziamo che vanno a sostituire anche quelli della cucina Ha detto animale, indicate me, no, però le uova, il latte che viene sostituito con del latte di cola, latte di riso, derivati degli animali e questa sera volevo soltanto farvi vedere la differenza tra un dolce classico di pasticceria mentre ho preparato tre portate che utilizzano elementi diversi che vanno a sostituire i soliti non essendo cotti non andiamo a rompere quelle che sono le catene enzimiche, semplicemente Ma la torta è vera? Quella di dietro è vera ed è una torta della pasticceria classica, le mie invece sono di cucina bioevolutiva crudista Ma che si possono vedere le tue? Certo, se volete raggiungermi, se vogliamo fare anche una degustazione Sì, sì, andate voi tre Prego, avvicinatevi Grazie a tutti Grazie a tutti